ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse io sono valentina in arte valley makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi nel video di oggi parleremo finalmente dei miei preferiti del 2022 e ricreeremo questo look proprio con quei prodotti prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come valley makeup lover anche su instagram e tik tok quindi se vi fa piacere venite a seguirmi anche lì e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi lasciate un like di supporto ma soprattutto commentate perché mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di youtube ma come sempre ho parlato abbastanza iniziamo subito con il video eccomi qua completamente struccata perché come vi ho detto inizio video faremo finalmente i miei preferiti del 2022 guardando qui sul tavolo mi rendo conto che praticamente sono tutti i prodotti low cost quindi sono sicura che sarete contentissimi ovviamente non farò un makeup ultra mega elaborato perché ho tanti prodotti da mostrarvi e ho cercato di selezionare un prodotto per categoria di modo che vi posso dire nell'effettivo quali siano quelli che ho utilizzato di più da inizio 2022 sino ad alcune scoperte di fine 2022 quindi non vedo l'ora di mostrarveli tutti innanzitutto idrato le labbra con un volumizzante e sto parlando di uno dei miei preferiti di questo 2022 ed è il lip and shine di essence come sapete io non amo particolarmente il pizzicorio alle labbra e questo dà una leggera sensazione di freschezza però comunque le labbra vengono rimpolpate non aspettatevi un volume di non so che tipo e adoro anche il fatto che abbia questa leggera colorazione rosata che dà proprio un effetto sano alle labbra lo trovate di varie colorazioni inizialmente non ero tanto convinta del colore invece mi devo ricredere perché è super cute come fra i miei rocchi vi mostro uno di quelli che ho utilizzato per più tempo nel 2022 e sto parlando del photo focus eyeshadow primer di wet and wild questo me l'avete fatto scoprire voi e sono sincera lo sto amando nell'ultimo periodo ho entrato a far parte anche uno dei nuovi primer di essence come primer occhi però vi mostro ovviamente quello che ho utilizzato di più e come sapete lo applico con le mani non ha colorazione quindi è trasparente però trovo che il makeup duri tanto gli ombretti hanno una buona performance sopra questo prodotto quindi se state cercando un primer classico che non colori la palpebra questo secondo me può fare per voi per quanto riguarda le palette ho dovuto fare proprio una cernita delle palette preferite e sono sincera ci sono state due palette in particolare che mi hanno fatto battere il cuore oggi ve ne mostrerò una ed è la earthy palette di beauty bay come sapete queste palette insieme alla midnight le ho acquistate con un bundle e sono sincera sono rimasta piacevolmente colpita perché non mi aspettavo questa qualità perché non avendo mai provato palette di beauty bay non sapevo nell'effettivo quale fosse la resa delle palette ma mi devo ricredere perché le ho amate sia questa che la midnight che ha colorazioni più blu viola e oggi creeremo un look sui toni del marroncino rossiccio con la parte inferiore della palette vi ho fatto alcuni video alcuni con un trucco blu alcuni con un trucco verde e quindi oggi proviamo qualcosa di più classico perché poi voglio abbinare anche un prodotto che è entrato a far parte dei miei preferiti da poco ma di cui non posso più fare a meno come primo colore prendo squash che è leggermente aranciato e lo applico nella transition sono comunque degli ombretti come vedete belli pigmentati però non fanno macchia non fanno fallout e secondo me sono adatti anche a chi è iniziato ora truccarsi quindi anche per i principianti diciamo così e lo sfumo in questo modo con un pennellino angolato ora prendo brick che è una sorta di rossiccio inizio a tracciare la nostra classica v all'esterno dell'occhio per intensificare il look come vedete sono tutti dei colori belli accesi belli pigmentati mi piacciono un sacco perché si sfumano altrettanto facilmente per intensificare ancora all'angolo esterno prendo raw che è sempre un rosso e lo tampono giusto in questa zona per dare un po di tridimensionalità questo è proprio un rosso aggiungo un po di rosso anche in questa zona per creare un effetto particolare e lo sfumo con il primo arancione che abbiamo utilizzato ho fatto la cat crease e adesso prendo hit che è un rosso uno shimmer rosso come vedete e lo applico in tutta questa zona perché voglio una base per applicare poi i glitter per dare qualche riflesso ovviamente quindi ora utilizziamo i glitter di lamel cosmetics che come sapete sto adorando ho fatto tantissimi look con questi glitter e li applico sopra lo shimmer giusto per dare un po di twist a questo look e li tamponiamo in questo modo se volete un effetto più pieno vi consiglio di fare una prima passata lasciare asciugare la colla e poi ripassare nuovamente sopra perché così aderiranno meglio e non state a spostare il prodotto a destra a sinistra perché ovviamente avendo questa texture acquosa se voi tamponate più volte sopra il prodotto si sposta giustamente lo applico proprio dopo ho messo lo shimmer traccio ora una riga di eyeliner per dare un po di definizione e utilizzo sempre l'eyeliner nero di lamel cosmetics questo trovo comunque che sia un buonissimo eyeliner scrive anche sopra il glitter ha un bel tratto e trovo comunque che sia un bel nero pieno mi piace tantissimo ok ho fatto anche l'altro occhio quindi li metto un attimo in pausa e iniziamo con la base come primer sto amando e ve l'ho ripetuto alla follia lelo good stuff glow serum primer di essence questo ho preso questa versione che è la versione illuminante e idratante e vi posso garantire che per essere un primer low cost ha una performance pazzesca a parte che idrata bene la base come vedete la rende abbastanza luminosa e poi comunque il make up quindi la mia base al di sopra dura tantissimo si stende benissimo ed è tutto molto omogeneo è un qualcosa che mi piace perché non lo trovo pesante non mi occlude i pori anche in questo periodo freddo in cui ho necessità comunque di prodotti idratanti mi aiuta tantissimo anche con il make up quindi secondo me è validissimo come vi ripeto sempre ci sono tante versioni anche quella lo squalano se non erro quindi secondo me potete trovare la versione adatta a voi per quanto mi riguarda questa per pelle secca è top come avrete notato nell'ultimo periodo anzi nell'ultimo anno ho cambiato tipo di base viso nel senso che sono arrivata ad utilizzare prodotti sempre più leggeri tra cui BB cream, CC cream e tinte, skin tint perché trovo che con il mio tipo di pelle performino molto meglio e si stendono meglio non mi danno nessun tipo di problema di base secca e anzi rendono il mio viso molto più uniforme quasi di porcellana tra le skin tint che ho utilizzato di più nell'ultimo anno trovo che la tinted hydrator di wet and wild sia una delle più valide come sapete adoro anche l'hydra hero di essence, lo stay natural sempre di essence altri fondotinta come per esempio il transformist di astra però mi rendo conto che sto utilizzando per la maggiore questa skin tint perché mi fa una base leggerissima, si stende benissimo, ha una coprenza comunque ottima per dire che una skin tint è ottima e questa la stendo solitamente con la spugnetta quindi trovo che sia un prodotto molto versatile perché ho potuto utilizzare per esempio anche i pennelli per stenderla e si fonde perfettamente con l'incarnato l'ho applicata qui sulla mano e inizio a stenderla per assurdo la colorazione è perfetta per me è raro che io trovi delle colorazioni che proprio si fondano perfettamente non mi facciano lo stacco col collo perché comunque ho un sottotono giallino ma nell'effettivo i fondotinta a base calda mi fanno diventare arancione a base rosata mi sbiancano e quindi solitamente io prendo delle colorazioni tendenti al neutro e questa devo dire che matcha perfettamente dura tanto durante la giornata ovviamente se avete una pelle mista vi consiglio di settarla bene perché è un prodotto idratante è pensata proprio per quello però su di me devo dire che fa un lavoro ottimo come vedete in 02 è sfumata e rende la base guardate iper luminosa ripeto non è super coprente ma non è ciò che io cerco nel fondotinta però trovo che questo aspetto sano quasi di porcellana si adatti benissimo al mio tipo di pelle e quindi ripeto per pelli secche per me è consigliata la trovate tra l'altro anche su amazon questa proseguiamo invece con la scoperta del secolo che è lo stay natural plus concealer di essence questo come sapete io non ho tantissimi occhiaie ho giusto un alone marroncino al di sotto e sto amando tantissimo questi correttori a bassa coprenza quasi diciamo media ma super idratanti perché hanno comunque una texture molto elastica si fondono bene con il mio contorno occhi secco come pochi non mi fanno nessun effetto cake anzi secondo me mi danno proprio quell'aspetto iper riposato è vero che in questo stick non c'è tantissimo prodotto però andando a vedere il rapporto qualità prezzo quindi il costo che ha essendo molto basso non è un male che non ci sia tantissimo prodotto e quindi secondo me ne vale veramente la pena se lo trovate se vi può interessare la colorazione che utilizzo è la 20 gentle beige anche questo iper iper leggero io non faccio color correction a meno che non ne abbia veramente bisogno ma in questo caso ho giusto un pochino di colorazione marroncina che riesco a neutralizzare tranquillamente con questo correttore e mi dà proprio un affetto si un affetto e mi dà proprio un aspetto come vedete super luminoso e iper riposato come ciprie non ho ciprie nuove nel senso sto utilizzando sempre la stessa ed è la bright and up banana powder di essence è una tra le poche insieme a quella di astra della linea pure beauty e alla powder di she glam che mi dà soddisfazioni avendo comunque la pelle secca ho un occhio di riguardo con le ciprie perché se sono secche e seccano la pelle capite bene che la mia base poi diventa uno schifo invece con queste che sono quasi impalpabili mi ci trovo benissimo i prodotti che vi mostro ora per contour, blush e illuminante sono tutti dello stesso brand e secondo me sono stati proprio la scoperta dell'anno perché da quando li ho conosciuti da quando mi sono stati inviati perché questi me li hanno inviati non posso più farne a meno e sto parlando del trio di bronzer, blush e illuminante mi rendo conto che la scritta l'ho messa al contrario però questi sono i tre prodotti che svoltano veramente tantissimo la mia base viso soprattutto d'inverno in cui non posso applicare prodotti troppo spessi o troppo polverosi perché la base mi si secca in 0,2 quindi iniziamo con il bronzer e quello che utilizzo è la colorazione golden sun molto calda però ci sta benissimo con il mio incarnato ho anche lo stick di questa colorazione però devo dire che preferisco di gran lunga questi liquidi perché si sfumano facilmente sono stratificabili non fanno macchia e donano alla base e comunque al viso un aspetto iper naturale cosa che a me piace da morire come vedete sto appoggiando la spugnetta e si sfuma già in questo modo cioè io lo adoro non posso veramente farne a meno nel 90% dei video che registro dove ho già la base fatta i prodotti sono questi veramente mi ci trovo benissimo e come vi dico sempre io sono una persona molto abitudinaria e se un prodotto è valido nel senso che su di me performa bene non vedo perché debba cambiarlo per quello che faccio ovviamente mi trovo a provare tantissimi prodotti però nella routine poi se qualcosa mi piace veramente tanto lo uso spessissimo mi era stato detto che questi prodotti non avessero una gran quantità all'interno però sono sincera io lo utilizzo assiduamente mi trucco praticamente tutti i giorni e ancora non è terminato il prodotto tenete presente che ne bastano veramente due goccine e questo è il risultato quindi non ho capito come mai si dica che durino poco però ovviamente come sempre io vi parlo per esperienza personale quindi può anche essere che abbiamo stili diversi di trucco quindi in modo in cui ci trucchiamo differente però davvero io li adoro questa colorazione in particolare ho utilizzato anche la colorazione un pochino più fredda però lo sapete io non amo su di me il contour freddo però anche la colorazione più fredda si sfuma veramente benissimo proseguiamo ora col blush e utilizzerò la colorazione Risky Business che se non erro ha dei glitter vi dico se non erro perché è la vecchia confezione quindi ancora non erano differenziate da quelle opache e ne metterò giusto una puntina così lo sfumo al massimo poi aggiungo perché anche i blush sono veramente iperpigmentati e sono bellissimi perché guardate effetto super naturale si fondano perfettamente con l'incarnato e su pelli secche o segnate secondo me è l'ideale perché non vi enfatizzano la texture della pelle quindi top da quando sto utilizzando questi prodotti noto comunque che le mie basi viso sono molto più naturali e molto più luminose cioè top io questi per esempio li utilizzo anche d'estate e li fisso leggermente perché sono comunque dei prodotti che si autofissano quindi una volta che li applicate si fondano con la pelle si fissano ed è veramente difficile spostarli ovvio è che se avete una pelle già di base mista o grassa dovete settarli a prescindere però io molto spesso me la tento diciamo così anche d'estate a non fissarli e per dire che sono dei prodotti in crema durano veramente tanto non vi posso far vedere in azione credo di no perché è finito lo spray fissante che ho devastato praticamente nell'ultimo anno ed è questo della collezione sunday picnic di she glam io provo a irrorarmi il viso con quel poco che ne rimane ma presuppongo che non ce ne sia più no ormai è andato ragazze non va non funziona però questo è uno dei miei fissanti preferiti perché vi fa una base super omogenea ve la lascia con un effetto glass skin quindi molto luminoso però in alternativa come spray fissante mi è piaciuto tanto anche questo effetto matte di NYX come vi ho detto in altri video vorrei provare la versione glowy perché magari posso sostituirlo a questo di she glam che sicuramente ricomprerò perché l'ho adorato illuminante sempre di she glam oggi uso la versione più fredda vanilla frost non mi veniva il nome cioè guardate quanto è sottile ne basta una puntina poi lo sfumate e ha un effetto bellissimo adoro per le sopracciglia per fissarle vi giuro che ho rivalutato tantissimo le saponette e sto utilizzando tanto il brow fixing soap di Lamel Cosmetics come sapete io non amo l'effetto soap brows ma questa saponetta mi permette di fissarle e di dare alle mie sopracciglia un effetto molto più folto cosa che mi piace da morire però sempre rimanendo nel naturale lo sapete io ho delle sopracciglia importanti se le tiro tutte verso l'alto praticamente un gufo mi farebbe un baffo e quindi anche questa mi sento di consigliarvela anche per chi adora l'effetto soap brows cioè guardate la differenza super pettinate ma pur sempre naturali dobbiamo terminare gli occhi e stavo pensando a cosa applicare ma alla fine opterò per una matita sui toni marroncini anzi forse questa è quella violacea e come eyeliner casual sto adorando queste di Lamel Cosmetics sono sincera non mi aspettavo che fossero così burrose così scriventi ma allo stesso tempo iper sfumabili e soprattutto vi devo dire che nonostante siano così cremose si fissano veramente in 02 quindi sono bellissime interruzione per uno starnuto a posto dicevo devo dire che nonostante siano così cremose si fissano ma vi danno il tempo comunque di sfumarle trovo che siano ottime quindi la applico in questa zona quindi sotto tutto l'occhio e ovviamente anche fuori per poi sfumarla poi con un pennellino angolato la sfumo per bene come vedete si sfumano velocemente ma non sono faticose da sfumare cioè sono bellissime come mascara applico allo sky high di Maybelline la versione Cosmic Black è forse uno dei mascara che ho utilizzato di più in assoluto poi però applicherò le ciglia finte perché mi sta tornando la malattia delle ciglia finte in questo periodo però questo sky high di Maybelline sono sincera mi piace tanto anche la versione classica vi ripeto non noto nessuna differenza con la versione classica ve l'ho sempre ribadito se non il fatto che forse è leggermente più nero mi sta anche terminando ormai verrà comunque qualche altro mascara mi auguro in questo 2023 che mi rapirà il cuore me lo auguro ho terminato gli occhi per quanto riguarda le labbra invece mi sono ritrovata tanto ad utilizzare questi duo di She Glam e molto spesso i gloss 3 Hydra Gloss di Kiko faccio una combo e vediamo un po' il risultato finale del look quindi questo è il look terminato spero vi piaccia questi erano tutti i miei preferiti del 2022 diciamo che sono stata brava a selezionare i prodotti per darvi poche alternative perché effettivamente i preferiti secondo me sono dei prodotti che si utilizzano assiduamente quindi mi fa piacere che sono riuscita a fare una scrematura e questo quindi è il risultato finale fatemi sapere nei commenti ovviamente se tra questi prodotti ci sono anche i vostri preferiti come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video anche per oggi è tutto io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video ciao raga